un saluto agli amici della casa che di minano oggi abbiamo fatto chiave di scorta per fiat ducato camper vediamo se funziona chiuso aperto ok vediamo si accende si accende il motore alla grande chiavi fiat ducato bellissimo camper perfetto ottimo chiavi ducato camper milano casa della chiave number one ciao 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 ciao